salve amici di youtube andiamo a vedere un particolare per la manutenzione della chimar beretta 92 di questa pistola salve ho già fatto sia la recensione sia il confronto con il modello 92 bruni però in questo video ci tengo a farvi vedere la pulizia perché ha un qualcosa di particolare su cui bisogna soffermarsi mettete un bel like per aiutarmi a divulgare questo contenuto ed iscrivetevi attivando anche la campanellina per non perdere i prossimi video oggi pomeriggio alle ore 17 non dimenticate l'appuntamento con vlad spara storie che sarà ospite nel suo canale e parleremo di pistola salve passiamo alla pulizia di questa pistola salve per la pulizia ad ogni sessione di sparo come sempre ci servirà lo scopolino del lubrificante che faccia anche da pulitore quindi o del vd 40 o del ballistole che secondo me sono i due oli per pistola salve più indicati e dei coton fioc per pulire in profondità la camera di cartuccia e allo stesso tempo per poi andare a lupa pulire ea lubrificare le guide di carrello e fusto dopo aver tolto il caricatore procediamo allo smontaggio da campo quindi armiamo prima il cane poi ruotiamo il chiavistello di 90 gradi giriamo la pistola salve premiamo dall'altra parte e poi finiamo di estrarre ok adesso il carrello può essere tolto quindi tiriamo indietro lo si alza e si estrae e ora possiamo procedere alla pulizia come abbiamo appena detto l'olio servirà anche da pulitore quindi cosa dobbiamo andare a fare prima mettiamo del lubrificante all'interno della camera di cartuccia lo lasciamo agire per una decina di minuti nel frattempo parcheggiamo la pistola salve il fusto della pistola salve su questi pezzi di carta poi prendiamo il carrello e mettiamo un po di lubrificante dove ci sono le guide in questo caso sono protratte sono prolungate anche sulla parte centrale e lasciamo agire per una decina di minuti passati i primi dieci minuti prendiamo lo scovolino e iniziamo a metterlo nella camera di cartuccia non inseritelo con forza ma avvitatelo che altrimenti oltre a rovinarsi le sedole rischiamo di non pulire proprio nulla fino in fondo poi per toglierlo come se dovessimo svitare vedete come viene estratto senza senza fare forza fa tutto da solo bisogna soltanto girare vedete il nero che lascia facciamo un'altra passata e questo ci servirà per togliere i residui più duri che sono quelli che poi danno anche più fastidio già un po meno residui ma non finisce qua servendoci dei cotton fioc dobbiamo andare a fare una pulizia più approfondita quindi inseriamo il cotton fioc facciamo fare un bel giro all'interno della camera di cartuccia perché arrivano dove non arriva lo scovolino se arriva fino arrivano fino al ai pressi della dell'altezza degli sfiati vedete il colore nero ma non troppo sinceramente perché le fiocchi non sporcano tanto ora è il grigiastro facciamo un'altra passata e finché non esce o grigio chiarissimo o bianco dobbiamo continuare dai un altro dai vediamo un po un altro ancora ok ok prima di passare al carrello oliamo anche le guide del fusto in questo modo ora lasciamo agire e nel frattempo passiamo al carrello come se fosse una cadena di montaggio mentre lavoriamo su una parte della pistola salve l'altra parte della pistola salve e lì con l'olio che agisce prendiamo un cotton fioc e iniziamo a togliere l'olio ormai impregnato di detriti da polvere da sparo dalle guide esce di un bel colore quasi nero giriamo il cotton fioc anche qui un po annerito cambiamolo perché deve fare una sola passata cioè nel senso che non dobbiamo una volta che l'abbiamo tolto dalla guida non dobbiamo passare lo stesso con un fioc sporco sulle guide perché altrimenti abbiamo ricominciato tutto da capo se qualcuno ha una macchina di vernice nera penso basta un cosa di questi e toglie qualche graffio no sto scherzando quando è così se vado al carrozziere comunque facciamo questa continuiamo la pulizia anche qui non dimenticate questa parte qui che è importante nero intanto pensiamo anche all'altro lato e qua penso serve un'altra un altro cotton fioc quindi di nuovo ripetete il procedimento finché non esce di colore proprio chiaro quello è importante perché significa che significa che i detriti si sono tolti qua ce n'è ancora proprio poco ecco così può andare stessa cosa parte centrale del carrello perché questa le guide anche nella parte centrale ecco questa è una particolarità che ci tenevo a sottolineare perché tante volte ne va a pulire la pistola salve crediamo che le guide siano sia qui e ci dimentichiamo di quelle centrali quindi andiamo a pulire anche queste perché sfregano poi con il fusto della pistola salve durante il ciclo di sparo anche qui stesso procedimento finché il cotton fioc non esce bianco o grigio chiaro 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 dobbiamo continuare perché poi dobbiamo essere certi che quando andiamo a mettere l'olio per lubrificare non più per pulire non ci devono essere detriti che rischiano di impastarsi con il lubrificante e ora passiamo alle guide del fusto l'olio ormai ha già agito qui non ci servono con un fiocco per pulire ma è molto più comodo un tovagliolo o anche una pezzuola va bene comunque iniziamo prima parte di parte alla parte sinistra dobbiamo asciugare l'olio che avevamo messo prima guardate qui allora questo è appena ci ho passato ci ho fatto la nuova passata un po se lo ritrovo ecco qui ed era un po annerito vediamo un po alla terza passata beh è uscito proprio non pulito di più anche sopra a me non ho avuto bisogno di pulizia sopra però sempre passarcelo lo straccetto o la carta o qualsiasi cosa che possa pulire l'altra parte di parte destra della pistola salve ma non è proprio sporchissimo e anzi è quasi pulita eppure ha sparato 50 colpi qualche meno 5 colpi scusate pochi minuti fa 50 colpi questo ancora non li ha sparati ora un altro tovagliolo per le guide centrali dall'altra parte stessa cosa dall'altra parte puliamo la guida centrale è leggermente sporca togliamo anche l'olio in eccesso da sopra la canna questi sono quelli che si sedimentano sullo sfiato ok adesso questa parte qui è pulitissimo ora asciugiamo il carrello da tutto l'olio il lubrificante che ci avevamo messo in modo tale che ci portiamo via anche eventuali detriti togliamo tutto e procediamo alla prima lubrificazione allora olio sul coton fioc ok ora vi è il tovagliolo e procediamo a lubrificare le guide del carrello quindi prima questa parte laterale poi passiamo all'altra guida laterale ricordate con la chimera anche al centro e anche con la bruno 84 che ha le guide lunghe così poi parte centrale del carrello queste sono tutte parti che poi vanno a sfregare con il fusto quindi è importante che abbiano una giusta lubrificazione non mettetene troppo espandetelo in questo modo con un coton fiocco anche con un pennello va bene quando è lucido significa che c'è olio e c'è a sufficienza ora passiamo al fusto stessa cosa prendiamo un coton fioc l'oliamo per bene e lo spennelliamo spennelliamo l'olio sulle guide quindi in questo modo finché non diventa lucido non ci deve essere tanto lubrificante perché altrimenti invece di farla funzionare bene rischiamo di farla inceppare anche qui stessa cosa scusate non si vedeva mettiamo un po' a fuoco perfetto e lubrificiamo qui forse ce ne vuole ancora un po' e questo mi è quasi finito pure e ok attenzione avevamo dimenticato quelle centrali però vedete anche qui lubrificazione finché non diventa lucido non deve gocciolare l'olio ok passiamo al rimontaggio ora dobbiamo rimontarla quindi prendiamo l'asta guidamolla con la molla attenzione quando inserite l'asta guidamolla guardate questo foro questo ci serve quindi non deve finire così perché altrimenti non possiamo inserire la chiave di rimontaggio mettiamo il carrello lo stesso smontaggio e rimontaggio che vi ho fatto vedere nella recensione abbassiamo e ora dobbiamo fare in modo che si inserisca la chiavetta quindi vedete il foro inseriamo la chiavetta in questo modo la lasciamo sia la chiavetta sia il carrello lo facciamo scorrere piano ok e vediamo quindi che l'asta guidamolla viene tenuta in tiro dalla chiavetta perché? perché dobbiamo inserire il chiavestello tra chiave e chiavestello facciamo una ferramenta o un fabbro comunque ok ora possiamo possiamo rimuoverla e vediamo se la pistola salva è montata correttamente scarrellando più volte perfetto e questo ci serve anche per far prendere strada al lubrificante vediamo se lo do bene funziona avevo smarrito il caricatore ok beh funziona pistola salva è montata correttamente non bisogna dimenticare di togliere l'olio in eccesso perché non ci serve oltre a darci fastidio l'olio all'esterno a meno che la pistola salva non la riponiamo per qualche anno non ci serve perché dà solo fastidio non ha nessuna importanza meccanica perché la meccanica è all'interno e l'olio all'esterno ci rende unta la pistola salve e quindi scomoda poi da usare ok come spesso sottolineo le operazioni di manutenzione sono molto importanti per la salute della pistola salve vi vorrei consigliare un gruppo sulla piattaforma blu chiamato armi e pistole a salve in cui ci sono caricati i miei video e in cui ci sono molti appassionati e possessori di pistole a salve seguitemi anche su insta anthony-yt-92 se il video vi è piaciuto mettete un bel like ed iscrivetevi per essere costantemente aggiornati su nuovi contenuti o su nuove recensioni un saluto e al prossimo video ciao